Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, oggi è mercoledì e Elia, sì dovremmo fare il VAR, però Elia come ben sapete non è venuto a San Giovanni, non siamo venuti altrimenti a San Giovanni, come mai? Perché avevo male ai polsi e quindi siccome la settimana dopo avevo l'italiano non volevo compromettere. Sì, diciamo che se devi forzare perché forzando ti fa male giusto? Hai preferito dire vabbè faccio un po' di riposo e a besnate magari torniamo meglio perché hai male ai polsi e hai detto. E niente, cosa facciamo oggi? Cosa facciamo oggi? Non facciamo Elia e El VAR, siamo noi due, non abbiamo visto io e Elia nessuno dei risultati, non sappiamo niente, sono arrivati i messaggi nel gruppo Pescantina, Casini e robe, io ho dovuto silenziarmi perché appunto volevo fare questo video di diciamo reaction circa per nostro sulle varie finali che ci sono stati. E anzi, sarebbe bello che magari metteste un bel mi piace se vi piace il video che magari chissà un domani potrebbe diventare un format. Nelle gare europee o internazionali? Eh sì, bravo, bravo, hai fatto bene a dirlo perché questa è una prova perché volevo infatti la settimana del mondiale che non manca molto, volevo fare questo tipo di video qua. Anche le olimpiadi? Sì, bravo, e anche le olimpiadi, però prima c'è il mondiale, allora fare questo tipo di video dove noi non guardiamo i risultati e facciamo la reaction dei mondiali, molto importanti mondiali, perché fanno un punteggio, e penso un gran punteggio, per quello che sono i... come si chiama? Le olimpiadi. E quindi dai forza, anzi so che tanti sono, cioè sono già là, la nazionale è là, Lupi, e li salutiamo, Lupi, Sciortino, Fantoni, Ladelli e Pietro Bertaz, se non erro, sono già là perché appunto devono cominciare ad ambientarsi, il fuso, la pista e tutto quanto. Gli facciamo un grosso in bocca al lupo e forza che ci sono le olimpiadi quest'anno e sono qua e sarebbe bello e bisogna fare punti. Va bene, dai, andiamo alle reazioni. Traballa tutto. Traballa un po' tutto, sì. E va bene. Andiamo a vedere le reazioni nostre. Allora, andiamo a vedere tutte le finali, ok? E le semifinali della tua categoria, visto che li conosci. Io ti dico, guarda, eccole qua. Questa siamo già alla finale G1. Allora, la G1, ho già visto la start list. Dov'è che l'hai vista la start list? Ecco, infatti qua, io ho la start list, te la dico, così mi fai una previsione del podio, vediamo sui imbrocchi. Abbiamo Bonetti, che è del Pescantina, Lattini, Michele, Ferrari, Tommaso, Matisse Tomizioli, Federico Gottardi, Alessio Montolli e Tommaso Magrinna. Allora, secondo me vinci uno del Pescantino, non vorrei dire. Quindi, o Bonetti, o Tommizioli, o Montolli. Sì, o Montolli. Ok, vediamo, chi vince? Fricciua. Poi giù non è sempre difficile, perché magari partono male. Eh, infatti, vediamo. Senza fare tanto varro, secondo me, guardiamo e basta. Aspetta, aspetta, Matisse in seconda, e vicino all'altro nostro. Francesco. Francesco. Bonetti. Bonetti. E qua c'è Montolli. E Montolli, ok. Vabbè, per dire è partito meglio il terzo, ok. C'è il plate qua, sì che c'è. Forse Ferrari, non lo so, vediamo. Eh, sono dietro purtroppo. Mi ero dimenticato che non mi hai detto la squadra. Ah, scusa. E chi è davanti, Lattini, Libertas? È quello della Libertas. Matisse, è terzo? No, quarto. Ah, quarto Matisse. Eccolo, è caduto. Nostro. Sì. Chi è che è caduto? È Bonetti. Ah, Bonetti è caduto. Vediamo se Matisse ce la fa, secondo posto. Attenzione, attenzione, curva la Matisse. No, è troppo dietro. Sì, è meglio così che magari cadeva in ultima curva. Eh, infatti. Aspetta, vediamo, la tiene la terza. Perfetto. Bene, andiamo alla G2. La G2 dice... Eh, però non c'è. Non c'è. Saccomani, Elias Leone, Libertas, sempre. Zan Andreis, Pescantina. Zenere, Libertas. Raniero, Creazzo. Gekiele, Creazzo. Ambrosio, Verona. E Pasetto, Pescantina. Previsione? Chi vince? Saccomani, della Libertas. Saccomani, della Libertas. Boh, non lo so. Secondo me, Alessandro potrebbe andare sul podio. Zan Andreis? Sì. Eh, oddio, ci sta. Ci sta. Vediamo? Sì, vediamo. Ma che secondo me? Se non fanno come nei G1, che succede? Eh, attenzione. Ecco. Quella volta che non lo dico... Vince lui. Eh sì, ma non è davanti. E i due della Libertas dietro. Eh, attenzione, attenzione. È tutto interno. Eh sì, ha anche il trennino della Libertas. Mamma mia, vediamo se ce la fa. No, lo supera. No, bravo, bravo, bravo. È interno. Grande va... Mamma mia, l'ultimo! No, no, lo tiene dietro. Bravo. Grande Zan Andreis. Bravo. Grande. Ha vinto? Primo? Sì. Grande. Quella volta che non lo dico. Quella volta che non lo dico ha vinto. Grande. Grande, Alessandro. Grande. So che ci segue sempre. Mitico. Anzi, ci ha chiesto l'adesivo, bisogna che glielo diamo. Sì. Vabbè, lo vediamo tutti i giorni in allenamento, quindi ce la possiamo fare. Finali G3. Ongaro, Brusca, Attenzione, Bona, Morari, Troncon, Tosetto, Chiavazza, Tobaldo. Previsione? Secondo me il podio sono i primi tre che escono fuori nella start list. Quindi Ongaro, Brusca, Bona? C'è il podio quello, magari si invertono. Magari si invertono. Ongaro, almeno che non cade. C'è, vince. Vince. Eh, però Leonardo, vediamo se ce la fa. Anche, insomma, anche Troncon, potrei... Eh, vabbè, non li conosco, via. Finali G3. Ongaro, ma Bona c'è. Ah, che sarebbe Nicolino, il Nicolino Brusca che dice, terzo, terzo, buona. E sarà la prima che ha zecco? Attenzione. Bravo. Quasi. Non è la prima che ha zecco. No, non l'ha zecco. Non l'ho azzeccata un po'. Bravo, Leo. È Nicolino, sì, sì. Nicolino Brusca. Eh, è giusto, dai, l'avevi detto. Probabilmente questo è invertito. Eh, esatto. L'ha imbroccato. L'ha imbroccato. La prima. G4. Rasia, Consuma, Candiotto, Carraro, Zuccar, De Vecchi, Liam, Martignon, Pasini. Attenzione, Pasini in finale. Allora, qua vince Rasia. Sì. Poi? Non ne ho idea. Non ne ho idea. Non ne ho capito. Eh, Consuma, De Vecchi, eh, ma dai, non li conosco. Vediamo, Rasia. Eh, non li conosci, no, perché continui. Eh, no, ci provo, insomma. Cioè, conosco, insomma, li vedo ogni tanto, insomma. Sto attento a te, più che altro. Pasini in otto, beh, è partito bene, però. In effetti. Bravo. Potete chiudere un pelo di più. Cioè, c'aveva spazio? Nel podio sono i primi tre lì. Eh. Eh, eh, Pasini, 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 dai. Orcocan l'ha superato. Eh, Carraro, Rasia. E Consuma. Orcocan e... Orcabugi, Thomas. Che dietro che è andato? Vabbè, insomma. Pensavo che c'era la stessa. Rasia, Carraro, Zucker, Candiotto, Consuma, Martignon, De Vecchi, Pasini. No. La mia categoria. No, tua categoria facciamo dopo. Perché guardiamo anche la semi. Sì. Ok. 6. Buschini, Pusci, Troncon, Tavernini, Prezio, Zordan, Morari, Manganotti. Bella. Previsione? Buschini, i primi tre. Buschini. O forse anche Cesare va sul podio, non so. Eh, magari Pusci, Tavernini potrebbero. Vai. G5. Eccolo! Eh, Giulio. No, non... Troncon. Sì, Troncon. E un altro è caduto là davanti. È Prezio, quello là davanti. Pusci. Pusci è Prezio. Pusci è Prezio. Vediamo la caduta un attimo perché ero concentrato sul davanti. Eh, erano tutti attaccati e poi si sono toccati. Ah, sbagliato lì. Vabbè, perché sarà stato tutto... Tutto è incasinato. Oh, attenzione, Tavernini! Eh, Orko che è venuto su forte lì. Ah, Boschini. Ma che Pusci, non è Puscio, no? È Tavernini. Eh, ha sbagliato il cancazzo. E quello... Aspetta, poi no. È Morari. Sì. È Morari. Ok. Esorniti uno. Questa è bella, eh. Qui, o Menegoli, o Tomizzioli, se le danno, veramente. Questa è bella, eh. Menegoli, Tomizzioli, Dissarò, Lucente, Broggio, Maragna, Billotta e Moretto. Eh, vince uno fra Liam e Menegoli. Sì. Perché sono loro in uno. Tripletta, no, minchia, sono in quattro del Pescantina. Eh, vediamo se ce la riescono a fare. Eh, c'è anche Dissarò, Broggio, che possono dire a loro. Vediamo, esordenti uno. Bella questa. Ha parlato male. Baccabò, Dissarò, attenzione. Sì, ma Liam. Liam viene su. Vedrai che... È infatti. Liam? Sì. Che cos'è, arriva Broggio, anche giù di là? Eh, sì? Quindi Tomizzioli... No! Non ci credo! Non ci credo, è caduto! È passato tanto in terra ed è scivolato. Non ci credo! Non ci credo! E qua cosa succede? Aspetta. Broggio, Broggio, Lucente... Menegoli, dov'è? È lì. Terzo? No, quarto. Broggio, Lucente, Menegoli, terzo. Terzo. Quarto. Ma dai, vaccabò, Liam! È passato tanto interno. Incredibile! Ed è scivolato. Ha tirato su un polverone, vaccabò! Eh, ma perché lì c'è polvere? Se entri tanto interno... Zio, quindi era straprimo, poteva gestirla... Che sfiga! Si è fatto male, poi, no? Dai, mi avrebbero scritto. No, no. No, dai, dopo scriviamo. Ok. Quindi Menegoli, Dissarò. Faccabò! Faccabò! Mi sono 22, secondo me. Gaule, Brizzolari, Lavarini, Cristian Bruno, Mucchiut, Tiozzo, Fontana, Gobin. Ok. Vaccabò in otto, Gaule? Vaccabò dove è andato a finire? Tripletta, eh? Tripletta? Sì. Ci sta anche. Vaccabò. Senza... Senza Caslini. Ah, perché c'è... Ok, giusto. Vaccabò, eh? Gaule, Bruno, Lavarini. Grande! Grande! Bellissimo, complimenti. Allievi. Categorie allievi. C'è qualcuno qua? Categorie allievi, priva di Del Tongo, giusto? Che poverino si è infortunato e salutiamo, giusto? È Del Tongo allievi, mi pare. Sì, sì. Però ci siamo violetti. Allievi che mi ha detto suo papà che ha avuto una brutta caduta. Marco, rimettiti presto, mi raccomando. Allievi, finale. C'è Campedelli. Finale abbiamo Ferrari, Campedelli, Mannucci, Mattei, Puggia, Dalla Vecchia, Censi, Caloi. Campe sul podio? Vediamo. È in prima anche. Parti in uno. È fatto il primo nella semifinale, sicuramente. Piero, parli e sceglieva per secondo. Non è che ce l'ha fatto. Secondo? È andato l'arco. Ma che lotta, bravo. Vediamo se la tiene. Sì, sì, la tiene. Sì, sì. A meno che non gli succede come io. Ok. Bravo, Campe. Bravo, Campe. Master? Master 17 più. Marchetto, Martinello, Benedetti, Fiorini, Liga, Bo, Vicentini, Bonfigli, Mezzarri. Aspetta? Io dico anche Fiorini. Io dico Martinello. Vinto. Vediamo, tu non ti sbilanci. No, non lo so. Ma mancano tutti i cuori del carisma. No, questo è Asce. Marchetto? C'era Fiorini. Eh no, Fiorini è dietro. Il gambo viene su. Stavo cadendo. Sì, eh sì, Martinelli, no. Martinello, Benedetti. No, Marchetto. Aspetta, i nomi, buonanotte. Master, eccolo qua. Marchetto, Benedetti, Liga, Bo. Open Elite. Dovrebbe esserci il Chico Bonini? Sì. E Tomizzioli? Martinun, Tomizzioli. Tomizzioli. Tomizzioli, Bonini, Agazzi, Fabris, Zocca, Thomas, Ligabò, Giulio Semperboni. Aspetta che controlliamo che sta andando. Sì. Bam. Vince il Chico? Vince? Speriamo. Beh, podio, podio, secondo me sì. Beh, se la giocano due Tomizzioli. Due Tomizzioli, sì, secondo me. Tomizzioli però, eh. Pareto meglio. Sì, più che. Però è interno. Eh, no, è passato via. Vabbè, ok, ci sono altre tre linee. Sì, sì. Eh, bravo però. Aspetta, ci sono altre tre linee. Siamo pronto, sono veloci. Eccolo! Bravo, bravi. Bravo, bravo Nico, eh. Fino all'ultimo, ovviamente, all'ottato. Bravissimo. Bene, adesso tocca la mia categoria. Adesso tocca la tua categoria. Prima, semi. Negro, Fusari, Raniero, Crosara, Bullando, Dallago, Piccoli, Luzzi. La seconda è Bona, Morello, Giacopuzzi, Gasparella, Bocca, Gottardo, Paganelli, Guereschi. Della prima, semi, G5. Wow, che rischio. No. No, è negro. Bravo. Quindi, Pietro, Negro, Fusari, Raniero, giusto. Eh. Questa categoria qua, la mia, sono più forte. Eh, vabbè, la conosci, ci sta. Vediamo, non c'è niente, no? Cioè, non c'è niente che cadono, no? Posto? Seconda semi, quindi Bonello, sì. Abbiamo fatto Bona, Morello, Bonello. Bona e Morello. Bona, Morello, Giacopuzzi, Gasparella, Bocca, Gottardo, Paganelli, Guereschi. Ma come è pareto male? No. Oddio, che è caduto? È caduto Giacopuzzi. Nico? Sì. Aspetta, scusa, che salutiamo Nico, eh, che mi ha chiesto come stavi. Ah, si è un po' sbilanciato, forse è toccato dal creazzo. Eh, sì. Beh, ma mi pare che stia bene, sì, ma l'ho sentito. Ciao Nico. Allora, Morello, Bona. Gottardo! Oh, dove sta andando? Oh, la inquadratura. Gottardo è passato. Aspetta, aspetta. Secondo, Gottardo. Terzo. No, no, Bona, scusa. È Gottardo. Bravo. Super. Occhio. Vabbè, ma comunque... No, no, ma è quarto, grande. Top. Quindi, vabbè, la finale la sai, senza che te la vedo. Eh, sì. Vabbè, e cosa diciamo? Vince Pietro, secondo Negro. Sì. Terzo, aspetta, ridimmi. Terzo, Fusari. Fusari. Cioè, nel senso, mi viene da dire? Fusari, ma secondo me potrebbe anche andare Giulio. Ah, giusto. Se riesce a partire bene. Ok. E anche Morello. Quindi tu dici che è un affare di terzo posto. Sì. Ok. Vediamo. Aspetta che voglio vedere. Pietro in uno, in due è... In Asparella. Tre, Tommy. No, era... Sì, Tommy, sì. E poi Morello. Bona. Fusari. Fusari. E Gottardo. Gottardo. E Achille. E Achille. Ok. Vediamo se... No. No, è caduto Giulio. È caduto Giulio? Sì. Si è sbilanciato qua. Erkokan gli è venuta male. Stessa curva. Saltino gli è venuto male lì. È atterrato. È volato. È sì, è alzato la bandiera. Occhio. Vediamo se gli fa la... No. No, no, non si è fatto passare. Ha imparato la lezione dall'italiano. Occhio perché... No, no, niente. Passa, 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 passa. Pietro, Tommy, Fusari, Morello. No, no, è indietro, è indietro. Morello, grande. Bene. Bravi, bello. C'è un aspetto che facciamo così. Bene, quindi, ci salutiamo. Sì. Ci vediamo a besnate. Ma pare che piova, quindi sarà dura, ma ce la faremo. E date un bel mi piace, se vi piace questo format. Così potremo provarlo nelle gare internazionali. Sì, o anche in altre. Perché no, dai. In gare in cui non vengo per problemi o cose. Ci vediamo in pista. Questo sabato e domenica. Iscrivetevi al canale sempre, che così non vi perdete tutti i video. Perché anche se non ci sono le gare, ci sono i video. Tra l'altro c'è l'intervista a Mariani, molto bella. Andatela a vedere. E salutiamo anche Matteo. E ci vediamo. A besnate. Sì che vengono a besnate, perché non c'è ancora il mondiale. No, ci vanno dopo. Ciao. Ciao.